Il V242 è un'automata di mangiamento di autonoma, di trasmissione di trasmissione e di generatore di generatore di generatore. E' anche consigliere che considerate questo prodotto quando riferisci un generatore di generatore. Benefitto numero uno, riservi il 50% di tempo per creare un pannello, facciate un ruolo di ruolo per la porta, tutte le connessioni di 400V sono fatti nel pannello di backplane, non c'erano i cable connessi alla porta, riservi 20 metri di cable e non interferisci con i circuiti low-voltage in caso di lontano. Questo significa un'attività molto lunga. Il V242 interessa con gli altri controlli o con l'enginio via il V242. Benefitto numero due, il V242 è collegato con il V242 via speciali cable. disponibile con il kit. Non bisogna più necessari fusi, relai e blocchi termini. Benefitto numero due, il prodotto è designato per essere user-friendly. Il interfaccio di user è semplice, tutte le funzioni principali sono chiaro per capire. Non c'erano i menu complessi, solo i indicatori di LED. Il display è capabile di lavorare in una grande temperatura di temperatura. Qui puoi vedere il load collegato con l'utilizzo di potenza. Qui puoi vedere il load collegato con il generatore. Qui puoi vedere alcuni dei messaggi indicati dal display. Benefitto numero due. Il pannello 20 mm è finito e meccanicamente collegato alla porta via un gassetto di polipropylene che garantisce, se molto bene installato, una completa IP66 ingress protezione. Se hai un gabinetto suitabile. Sendo il controllo installato nell'esternale della porta, l'olio elettromagnetico generato dal cambiamento dei contattori di potenza, non affettare la funzionalità del controllo. In altre parole, la porta del fronte è usata come una potente scelta. Benefitto numero due. EASY TO PROGRAM. Puoi impostare tutti i parametri di potenza, sull'utilizzo di potenza, generatore, engine, allans e così. Il BE242 è disegnato per lavorare continuamente per almeno 25 anni. Per questo motivo proviamo un'unimitata garantita. Visite il nostro sito oggi per sapere più di questo prodotto. Ciao!